Montani, possiamo dire che l'unico torto del San Nicolò è stato quello di non essere riuscito a chiudere la partita sul 2-0? Avete avuto le occasioni per segnare il terzo gol, non ci siete riusciti e avete pagato a caro prezzo questi errori sottoporto? Sono perfettamente d'accordo, l'analisi è perfetta perché abbiamo avuto più di una volta la palla per mettere a posto la partita, purtroppo abbiamo sbagliato, non bisogna guardarsi più indietro ora, dispiace, dispiace tantissimo perché i ragazzi hanno dato tutto, però le partite vanno chiuse, vuol dire che bisogna lottare, rimboccarsi le maniche e lottare fino alla fine. Più deluso per questo pareggio o più soddisfatto comunque per la prova della squadra al cospetto della terza forza del campionato? Entrambi, perché bisogna riconoscere la forza di una squadra che sarà costruita per vincere, che non perde dal 17 dicembre, gli abbiamo tenuto destra per lunghi tratti della partita e amareggiato perché alla fine la partita l'avevamo portata in porto, potevamo chiuderla, purtroppo non è stato così, siamo mancati, c'è stato un po' di ingenuità, un po' di superficialità, però ci rimbocchiamo le maniche e da martedì si pensa a San Giusto. Con queste prestazioni però non può che arrivare la salvezza, se il San Nicolò giocherà le prossime gare come quella di oggi non ci dovrebbero essere problemi? Sono d'accordo, l'atteggiamento è quello giusto della squadra che sa qual è il percorso suo, sa che deve lottare, sa che c'è una seria possibilità di fare i play-out, quindi deve giocare come ha giocato oggi con lo stesso atteggiamento, perché quello che abbiamo fatto giovedì a Monticelli non mi è piaciuto affatto, è stata poi la prima partita che i ragazzi steccavano dopo tantissime buone prestazioni. Oggi hanno risfoderato una buona prestazione e quindi sicuramente per quanto riguarda il nostro percorso l'atteggiamento di oggi è quello giusto. Federico Giampaolo, un pareggio acciuffato al 93, un punto pesante contro un San Nicolò che vi ha creato oggi dei problemi? Sì, è vero, è stata una partita difficile perché il San Nicolò è una squadra che soprattutto lì davanti ha giocatori importanti. Andare sotto 2-0 non è facile rimontarla, anche perché poi si è fatto male, Tariuk si è fatto male, Menn è uscito, ho dovuto far giocare un ragazzino del 2000, ho dovuto mettere Bianciardi difensore centrale, per cui eravamo nella fase difensiva in difficoltà. Siamo stati bravi a recuperarla perché poi ho dovuto cambiare modulo di gioco, ho messo quasi tutti gli attaccanti che ho a disposizione perché era l'unica cosa da fare, tenendoli pressandole e alla fine siamo stati premiati. I nostri microfoni qualche istante fa, il presidente Pari si ha detto di buono, oggi c'è solo il risultato, è stata una delle peggiori partite dell'Avezzano. Giampaolo cosa risponde? D'accordo con l'analisi del patron? Il problema è che l'Avezzano abitua troppo bene, le partite sono state sempre fatte di altissimo livello, qualche volta può succedere che sei sotto, è normale che il primo tempo abbiamo concesso un po' troppo, questo è vero, bisogna riconoscerlo, però c'è anche da dire che il secondo tempo la squadra è reggita la grande, per cui avere questa reazione, avere questa voglia di recuperare la partita è sinonimo di grande importanza che la squadra ha, che ha autostima, fiducia, è il tredicesimo risultato tutto il consecutivo, per cui va tutto bene, è normale che la lotta è molto difficile perché le altre squadre sono agguerrite, sono preparate come la nostra, però io penso che non perdere qui sia stato fondamentale. Poi 13 partite che non vinciamo, se dovesse capitare una sconfitta non penso che succeda la fine del mondo.